Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno per l'Inside Market, il Tour Operator e tutte le energie che lavorano per questo progetto assolutamente entusiasmante. Siamo molto contenti di promuovere e sostenere il progetto lanciato dall'Inside Market e sappiamo che l'insieme di Tour Operator è già questo fenomeno di rilancio perché mettere insieme le teste oggi è fondamentale, insieme al Comitato Sisma si organizza questa borsa del Centro Italia che porterà tanti Tour Operator qui sul nostro territorio nel progetto UBA. È importante perché mettiamo insieme le quattro regioni del Centro Italia e può essere l'opportunità di trasformare la catastrofe legata al terremoto in un'opportunità di rilancio fatta con una comunicazione oligua, ossia diamo un'idea di un'esperienza turistica su molti livelli dal mare alla montagna alle città culturali su quattro regioni in un modo uniforme. Quindi può essere l'opportunità del rilancio vero del turismo e dei vari cluster turistici del Centro Italia e quindi con un atteggiamento di apertura anche delle città. Ognuno non deve difendere il proprio fortino ma deve condividere insieme agli altri le proprie bellezze, le proprie ricchezze e trasformarle in opportunità anche di vivibilità e di attrazione per il mondo intero. E questa è una grande opportunità, noi ci vediamo moltissimo e questo è solo l'inizio, è un passettino di un grande progetto in cui tutti i territori possono rilanciare le bellezze, le ricchezze enogastronomiche e culturali. Grazie.